Partiti, eccoci arrivati alla famosa doppia pizza fritta che è un momento quantomai magico. Ecco la stesura. Andrei, chi ti ha imparato a fare pizza fritta? Che ti ha imparato? Felice. Felice? Felice. Felice. Diggilo, 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 chi è? Felice è il paico della cera maestra. Felice è il paico della cera maestra. Quando ha buppo i buoni, quante schiaffi al giorno prende? Felice. E Andrea, sono molti anni che sta con noi. Sei anni. Quindi ti dica tutti i giorni con felice, almeno tre volte al giorno. Tre, quattro? Fa orario, praticamente. Sì, sì, sì. Ma quanto è bella sta passata per l'anno. Anche se è felice lo caccia, dice Andrea oggi non mi hai fatto buone pizza. Se ne vai, Andrea si mette per protesta fuori dalla pizzeria seduta sulla moto. Dove dici da qua non mi muovo. La vera è propria la protesta. La dinamica è la pizzeria. Questa è con il pomodoro. Noi andiamo a gustire la gente. Come la gente da qua, a gusti c'è la vaccina. Ma il resto è uguale, giusto? Quindi provola e pepe rimangono uguali. Sì. Solo ci sono un po' di pomodoro in più. Ecco come si gira la seconda. Poi questa fase è critica perché non deve uscire niente. No, sono varie. Poi lui ha queste belle ma non è grandi. Eh, ha queste parette come niente. Le parette, l'olio. Andrea ricordami di non litigare mai con te perché... Dai facci sognare. No, 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 no. Mamma, guarda te perché. Inca la spalletta di olio. Guarda come sale. Guarda come sale. fantastica beata a chi sa mangiare mamma mia ma è uno spettacolo guarda tu secondo me dopo questi video dovremmo fare proprio una scuola di pizza fritta eh dovremmo farla sì la scuola di pizza fritta ma viene da piangere apprezzato di farla a casa una cosa così bella come ci riuscirai mai e c'è le mani di amianto mamma mia vedi adesso per chiuderla io comunque non ci va di la schiacciata è una boccata però la gente è contenta ci dà un morso ed è felice mamma quando vuoi fammola vedere un'altra che sta qua Andrea sei bravissimo facci sognare che meraviglia è proprio bellissima comunque si estende molto di più che la pizza al piatto normale si allarga parecchio di più ma pure il fatto che non ha cornicione quindi non rimane nello strato di pasta nel cornicione ti dà più pasta da stai ma guarda quant'è questa cosa dello sciacquettino è bellissima questa è tradizione che è una buona voglia di fare è andrea un poco è stato trasmesso andrea fatti riprendere giù fantastico perfetto